E' stata fissata per domattina l'udienza di convalida per i due sindacalisti arrestati venerdì con l'accusa di estorsione e danni dei titolari dell'impresa Sinergo. Roberto Getulio, segretario della FIM CISL, e Marco Faranda, segretario della Wilm, entrambi sospesi agli incarichi, compariranno davanti al GIP del Tribunale a Rituseo Andrea Migneco per sottoporsi all'udienza di convalida al successivo interregatorio di garanzia. I due indagati, subito dopo il loro arresto, sono già comparsi davanti al PM Gaetano Bono che ha coordinato le indagini e portato a termine dai polizzotti della squadra mobile, assistiti ai rispettivi legali. Entrambi si sono però avvalsi alla facoltà di non rispondere. Il modus operandi, il quantitativo di denaro richiesto, 30.000 euro, e in parte intascato la 30.000 euro, lasciano supporre agli inquirenti che non fosse la prima volta per i due sindacalisti avventurarsi in simili pretese per convincere le imprese metalmeccaniche dell'indotto del petrolchimico priolesa a evitare qualsiasi tipo di problema. Non abbiamo riscontrato alcun imbarazzo nei due indagati nel pretendere denaro, la sicurezza e la padronanza con cui si sono mossi in questa circostanza, spiega il purgatore Fabio Scavone. Ci lasciano dubitare che possono aver agito in questi termini anche in altre simili vicende, ma noi ci limitiamo a contestare questo episodio emerso grazie alla dettagliata denuncia a sport dal titolare dell'impresa, da prima a Gela e poi vedendo che i due sindacalisti continuavano a non demordere anche a Siracusa. Ed è proprio facendo leva sulla denuncia della vittima che gli investigatori della Mobile hanno potuto da prima disporre le intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti Gedula e Faranda per finire con l'arresto dei due che sono caduti nella trappola. Abbiamo riscontrato in loro una capacità operativa significativa, spiega il procuratore Scavone che sottolinea come non ci sia una dimensione più ampia del fenomeno che possa coinvolgere del sindacato in generale, ma l'episodio è circoscritto all'iniziativa dei singoli.